Assurda tempesta, incredibile, è venuta giù un'acqua incredibile, back out e adesso ci rischiamo. Uso fuoco di soppressione, prendetelo! Fuoco! Siamoci dentro! Prendiamolo! Siamo a guardia! Ci muove! Bisogna centrarlo! Come hai fatto? Ho ucciso i miei conti. No, è troppo. No, sarebbe ancora più esaltante. Nemico, tenersi pronti! Attaccate! Siamo in guardia! Siamo in guardia! Siamo in guardia! Grazie. 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 Questo Onwuki ha guardato l'impero schiavizzare i suoi simili. Grazie. 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 BD? Sono qui, BD. Si è rincantato. Lo fai sembrare facile. Ehi, BD, dai un'occhiata. Cos'hai trovato? Ashouse. Mi ha colpito! Mi ha colpito! Sarà una passeggiata, lo vedo! Amico, a Ioso! Insistiamo! Non perdiamo la fila! Termina per gli action! Prendi! Ho sopportato di peggio! Lancia uno steam! Dove è andato? Com'è? Un po' è andato! 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 Perché si è nascosto là dentro? Potrebbe anche andare fuori Wow, frena! Premiamo il miglior coltivatore, non il miglior raccoglitore di semi Beh, almeno così la mantis sembra più viva Bene, ascoltate, voglio dirlo solo una volta Ti ascolto Bene, se non lo sapete, questa è la mia nave, sono il capitano Un grande capitano, aggiungerei E detto io le regole Regola numero uno, chi di macchia ferisce, di macchia perisce Regola numero due, se quattro braccia non hai, il capitano non fai Numero tre, a Gris le padelle e a voi le scodelle Numero quattro, se c'è troppo chiasso, io ti pianto in asso Gris, avanti Cosa? Ci pensavo da quando abbiamo trovato il ragazzo Seduto ragazzo, atterriamo Porco di me, sono arrivati Si mette male I nostri soliti trucchetti sono inutili contro le loro difese Posso fare qualcosa? Cos'hai in mente? Un rituale Nasconderà la nave, spero Un rituale? Ci sa fare con queste cose Un attimo, fermi tutti E di che cosa hai bisogno per il tuo rituale? Di un sacrificio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Nemico rilevato. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Mi avvicino. Grazie a tutti. Porta chiusa. distro... Grazie a tutti. Colpiamolo ancora! Possiamo vincere contro di lui? Diamogli addosso! Amico, uno stim! Tiriamolo giù! Sto uccidendo tutti! Possiamo farcela! C'è di movimento! Attaccatelo, presto! Non lo so, solo io! Hai poche probabilità di sopravvivere? Davvero poche! E mi sei addestrato? Ce l'ho in pugno! C'è di, affrontami! Ce l'ho in pugno di rito! Aiutami, ti prego! Ci richiede un'attenzione! No, è addirittura! Vedi, mi serve aiuto! Avanti, attaccami! Sono ferito! Prendere il nemico! Qualcuno gli spari! Ferma da lezione! Uccideremo tutti i traditori! Attaccare il nemico! Il nostro nemico è agile! Sono ferito! Sono ferito! Non riuscirai a schivare tutti i turdi! Steam! Non ci sconfiggerai! Vieni e affronta la botina! Dio Santino! Ma che danno è? Rimarrò salto! Ti diverti a schivare! Ti annienterò! Il tuo attacco è lento! Porta, ti presento... Cazzo, l'hanno matato! Non possiamo fermarci! Dirigenti, è dell'ala degli interrogatori! Avvicinarsi con carriera! Non våra! Alcune... Alcune! 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 Ma che culattone. Quante abilità nascoste. Quello è l'ultimo. Kull sono vicino a te, dietro una porta anti-blaster. Riesci ad aprirla. Ci sono. È stato impressionante. Come ti senti? Non pensare a me, c'è un lavoro da fare. Ma fare a pezzi questo posto è piacevole. Ci tenevano imprigionati qui. Se solo ci fosse qualcuno da salvare. Mi dispiace che siamo tornati qui. Anche a me. Ma non avevamo scelta, no? Capisco. Andiamo avanti. Sì, facciamola finita. Qualche traccia di trilla? No, ancora no. L'holocron è nella camera degli interrogatori. Il posto più sicuro dell'intera fortezza. Aprirò una via fino all'holocron. Arriva all'holocron. Creerò un diversivo e ti raggiungerò appena posso. Lui? Qualcosa di interessante? Cos'è quella volta? Rosso. Sembra un turboascensore. Potrebbe essere l'uscita. Solicolino. Non c'è qualcosa di più. Non c'è qualcosa. No c'è. ci avviciniamo ehi vidiuno grazie di essere mio amico mai visto nulla di simile avanzato anche per l'impero li hanno spezzati sconfitti e convertiti al lato oscuro sconfitti sconfitti sconfitti